La vera disabile oggi è l'Italia, non siamo noi che siamo ciechi, sordi o chi ha una disabilità mentale o motoria. A parlare è Davide Cervellin, noto imprenditore travigiano, fondatore e presidente di un'azienda leader nel settore dell'i-tech. Appassionato di tecnologie informatiche ha curato i più importanti progetti per l'autonomia dei ciechi e dei disabili. A causa della retinite pigmentosa ha perso progressivamente la vista, divenendo cieco all'età di 16 anni. Nella giornata internazionale delle persone disabili Cervellin sottolinea un concetto su tutti. Il sistema, la società, la politica sono le vere responsabili di questa disparità tra persone giudicate normali e disabili. Noi abbiamo un paese che è pieno di barriere fisiche che solo a toglierle darebbe lavoro a centinaia, a migliaia di persone. Noi abbiamo uno sviluppo travolgente delle tecnologie telematiche, delle tecnologie della comunicazione e abbiamo migliaia e decine di migliaia di persone che non riescono a comunicare. Oggi noi abbiamo la possibilità di coinvolgere delle menti d'opera nel lavoro di tipo intellettuale e non offriamo a queste persone, semplicemente perché hanno l'etichetta di diversi, di handicappati, di appunto disabili, non diamo loro la possibilità di spendere la loro mente d'opera. Anzi, li teniamo ai margini, così i sempre meno che hanno capacità di produrre reddito devono produrre anche l'elemosina per mantenere in vita queste persone. Oltre un miliardo in tutto il mondo, il 15% della popolazione è quasi 3 milioni in Italia, il 4,8%. Sono le persone che vivono con una disabilità. E nella giornata della disabilità si torna a discutere sui tagli. Il finanziamento per il sostegno alle persone con disabilità è in corso alla Camera, dove è approdata la legge di stabilità, passata in prima lettura al Senato. Le chiedo un messaggio a chi della disabilità ne fa un problema, soprattutto di chi la vive e non riesce ad andare oltre. È non aspettare mai che la soluzione arrivi dagli altri. Rimboccarsi le maniche e lottare, lottare, lottare per la dignità che abbiamo tutti noi, una dignità che ci deve far stare a pieno diritto nella società insieme agli altri.